Parla tifoso napoletano. Un altro giorno, un'altra serie di nuove notizie per te. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di lasciare un mi piace per rafforzare il canale e di iscriverti per non perdere nessun dettaglio. Andiamo a ciò che conta. Il Napoli tiene d'occhio il mercato e, secondo le informazioni fornite da Mauro Meluso, l'obiettivo sono i terzini sinistri della Liga. Una scelta strategica per rinforzare la rosa agli ordini di Walter Mazzarri. Ma chi sono questi giocatori nel mirino del club italiano? Juan Miranda è il primo nome che appare. Classe 2000, questo giovane talento, cresciuto nella rosa del Barcellona, è tornato in Andalusia, dove è nato, per vestire la maglia del Betis Siviglia. Con il contratto in scadenza potrebbe diventare un'ottima opzione per il Napoli. Ma anche il Milan sta a guardare, il che potrebbe rendere interessante la disputa. Un'altra opzione è Javi Lopez, classe 2002 e giocatore dell'Alaves. Con coraggio nella marcatura, deve ancora migliorare la sua irruenza agonistica. Ma potrebbe essere un investimento prezioso, valutato qualche milione. Non si ferma qui. Manu Sanchez, classe 2000 e con esperienza nelle giovanili dell'Atletico de Madrid, attualmente brilla al Celta de Vigo sotto la guida di Rafa Benitez. Un'altra opzione nel radar del Napoli. Allora, cosa ne pensate di queste possibili assunzioni? Chi sarebbe la scelta migliore per rinforzare la nostra squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, condividete il video con tutti e, ovviamente, non dimenticate di lasciare un like. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Forza Napoli sempre!